Whatsapp ragazzi e ragazzi, eccoci benvenuti a un nuovo video Oggi faremo continuity, un puzzle game Allora, play game, space e le fecce per giocare Lo clicchiamo qua, ok Questo è in pratica un tutorial Allora, play space per andare sulla scena Tendiamo la chiave per uscire dalla porta Vedete la scena continua da continuity Ora qui dobbiamo far scendere questo per andare nell'altra scena Le frecce, facciamo cambiare scena Ok, noi scendiamo di qua Ok, torniamo di qua Facciamo space Facciamo scendere la scena con le frecce in giù Facciamo space per entrare nel gioco E andiamo se è pagliato Ok Allora, diamo un po' Vediamo cosa devo fare E poi Andiamo da quella parte E non credo che ci rivediamo E non credo che ci rivediamo Fatte Va bene vediamo cosa fa così ok 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 ma qui che si fa? prendiamo quella non dico non si può allora vediamo un po' la seconda andiamo da qua ok adesso prendiamo la chiave intanto la chiave allora devo andare da quella parte ok 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 è solo 6D ma non vanno un po' pensare un attimo e non vanno un po' le le varie scene trovare la coalizione giusta un po' facciamo un po' facciamo il puzzle con le caselline da muovere le le scene per comporre la scena iniziale ecco la chiave vedi come facciamo andare? fatte giù di qua ehm anzi stava così 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 giù di qua ok ok non è tutto in 7 livelli come avete visto per darmi informazione a questo gioco che ho fatto fatto un attimo di pausa fatto da è stato fatto da Elias Holmlid Dimitri Kurtno Guy Lima non so se ragia così e Junior e Stefan Michelson durante la premiazione dell'independent game festival è stato premato come miglior gioco fatto da studenti e ora continuiamo ok se no giù torna su che ne 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 quando vi ok tsa tsa ehm ok Questa è molto carina, insomma, poi anche la meccanica di gioco è interessante. Non ho visto altri simili, però questo è diverso. Allora. Ancora lo sto facendo adesso? Vedo che non ce l'ho. Come non muovo. Andiamo a scelta questa parte. Andiamo di qua. Andiamo a scelta questa parte. Ok. Allora. Così, così. Eccoci qua. C'è un altro paio di livelli. Vediamo un po'. Una chiave intanto. Ci siamo. Non ci panno realmente. Ah, qui conciugiamo un po' i vari schemi. No. Così. Adesso. Adesso. No. No. Non è questo. No. No. Non è che questo, ovviamente. qui conciugiamo. No. No. Non è che questo, è che cosa è che? Allora, vediamo un po', non vediamo appena la chiave, comunque, adesso, vertico, e adesso, qua, e poi così, Se almeno è una secolazione complicata per andare avanti, ovviamente, come vi farò vedere, si aggiungono le varie, diciamo, tiles, e quindi si complica la procenda. Non ci può andare, infatti, come immaginavo. Allora, di qua? no anche di qua di qua adesso su di qua o se no di qua di qua adesso no che cosa no vabbè se abbiamo dicendo di nuovo quello che ha fatto prima allora mossa sbagliata vabbè vabbè una qua un po' un po' un po' un po' una nuova una No. ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta a livello 10 noi e finiamo qua perchè è solo una dimostrazione di com'è il gioco se volete giocarlo il link del sito è armorgames.com slash play slash 5910 barra slash continuity con la y finale adesso quindi vi ringrazio per la visione come al solito fate like condividete il video guardatelo commentate ditemi cosa vi piace e come giochi e se questo tipo di giochi vi piacciono se avete mai giocato e come al solito vi ringrazio per la visione e a presto se ano vi ringrazio per la visione anteriore sospite ho canone Grazie a tutti.